Negli ultimi anni abbiamo visto diverse tecnologie dare supporto al mondo del PC gaming per incrementare gli FPS. A partire dai più noti upscaling come per esempio il DLSS di Nvidia, l'FSR di AMD e l'XS di Intel, ci sono diversi modi in cui i giocatori possono approcciare questo mondo e ottenere maggiori prestazioni o recuperare le lacune di titoli che invece non sono stati ottimizzati propriamente. Di recente abbiamo visto anche l'ultimo aggiornamento di Windows, che ha portato un incremento prestazionale principalmente per l'universo di Ryzen con effettivamente un aumento che può arrivare fino al 10% nel migliore dei casi semplicemente aggiornando il sistema operativo perché hanno migliorato quella che è la collaborazione tra la parte software e la parte hardware andando a dare quindi dei benefici che se poi si rispecchino anche un pochettino su Intel è positivo. Tuttavia c'è da dire anche che Windows 24 H2 di recente è stato in grado di far crashare alcune schede madre che appunto montino processori Intel. non è colpa del brand in questo caso però chiaramente fa un po' ridere che da una parte ci sia un beneficio e dall'altra invece aumentino soltanto i crash. Ad ogni modo oggi ragazzi abbiamo una novità per quanto riguarda l'incremento dell'FPS ma nell'ambito dei processori. Infatti la maggior parte dei brand ha appena introdotto quella che si chiama X3D Turbo Mod oppure nomi analoghi ed è semplicemente una modalità che va a incrementare in teoria almeno le prestazioni dei processori X3D nell'ambito del gaming esclusivamente con però alcuni piccoli dettagli che insomma si sono dimenticati di dire. Oggi abbiamo un'analisi completa per farvi capire tutto. Prima di tutto questa nuova tecnologia del Turbo X3D Mod ha fatto un pochettino di scandalo all'inizio perché Gigabyte è uscita con quest'articolo sul proprio blog in cui effettivamente diciamo che le parole se analizzate bene nel contesto da un recensore soprattutto sono un po' vacue ecco. Cioè vi dicono che hanno questa incredibile nuova tecnologia che va ad operare su alcuni aspetti del processore come il bandwidth, come il rapporto con le RAM ma anche oggettivamente in maniere anche più drastiche come per esempio disattivando il simultaneous multi-threading ovvero l'hyper-threading cioè il fatto che il vostro processore abbia 8 core e 16 thread. No, in questo caso con questa tecnologia arriverà ad avere 8 core e 8 thread. Un po' come visto di recente con le tecnologie degli Intel Core Ultra 200S. Un po' la risposta di AMD a questo primo approccio di Intel che magari in qualche modo ci fa pensare che stiano per arrivare degli aggiornamenti di Windows che in qualche modo diano beneficio a questa struttura di processori. Ad ogni modo Gigabyte in questo articolo parla di un più 18% però ce lo dice in maniera empirica. Che cosa vuol dire Gigabyte in maniera empirica? Cioè avete aperto un gioco, avete visto un tot di FPS, l'avete chiuso, applicato la Turbo Mod riaperto e hey più 18% perché cioè non ci sono le condizioni di test, i giochi, la risoluzione, la test bench su cui avete provato tutto quanto o banalmente anche semplicemente se le scene sono uguali se avete utilizzato un benchmark integrato, ne avete creato uno in azienda o se semplicemente avete aperto letteralmente una partita online di Black Ops e avete visto che boh in una facevate 160 fps e in una 180 avete dichiarato l'incremento prestazionale. È un po' particolare, cioè nel senso questi dati sono un po' vacui ecco quindi di per sé mi sentivo di testarli. Andiamo a vedere un pochettino. Prima di tutto chi ha accesso a questa tecnologia? La Turbo Mod X3D come fa capire il nome è principalmente dedicata ai processori X3D. In questo caso stiamo parlando dei 7000 e dei 9000 che ancora devono uscire nel momento in cui arriva questo video, però effettivamente Gigabyte stessa dichiara che il 9800 X3D dovrebbe avere un beneficio di circa il 5% grazie appunto alla Turbo Mod. Ovviamente ragazzi non è soltanto Gigabyte che ha questa tecnologia ce l'hanno tutti i produttori che collaborano con AMD per le X670 e per le X870 sia normali che in versione E, questo è molto importante. Quindi non dovete per forza comprare una X870 per accedere a questa tecnologia perché al tempo stesso vi basta semplicemente aggiornare il BIOS qualora abbiate già una scheda madre. Io per fare i test nella maniera più pulita possibile ho adoperato una X870E Hero che è il nuovo modello appena uscito, molto carino. Devo dire mi ha emozionato un po' di più della Z890, l'input output è un po' più completo. Scheda madre è molto interessante che ovviamente supporta anche i nuovi processori. La utilizzerò come test match d'ora in poi, la rivedrete un po' di volte su questo canale. Per abilitare la tecnologia ragazzi, come vi dicevo, vi servirà un BIOS abilitato che indichi effettivamente la presenza della Turbo Mode al suo interno. Per adesso trovate BIOS principalmente in beta. Sulla X670EE che ho utilizzato originariamente per fare i test, per esempio la tecnologia veniva applicata dal BIOS 2505, attualmente in beta, e sostituiva il 2403. Ad ogni modo, una volta che avrete aggiornato il BIOS, e se non lo sapete fare vi lascio una guida in descrizione dal nostro sito moderntech.it che vi spiega come farlo per tutti i produttori, dovrete semplicemente entrare nel BIOS e cercare la voce Extreme Tweaker, oppure voce corrispettiva. Insomma, la zona in cui si parla dell'overclocking e della gestione generale del nostro processore, delle DRAM e di altri aspetti del computer dedicati principalmente all'argomento del processore. Per esempio, qui sulla X870EE è abbastanza esplicito, vi basterà scendere un pochino e troverete appunto Turbo Mode, e l'unica cosa che dovrete fare è attivarla o disattivarla. Non ci sono impostazioni manuali, non potete sbagliarle. Dopodiché uscite dal BIOS e semplicemente la modalità sarà attivata. C'è da dire una cosa importante ragazzi, questa modalità va a intervenire in maniera abbastanza aggressiva sui processori, non dovrebbe causare danni, o perlomeno per il momento non li ha causati a nessuno dei miei processori e non ci sono segnalazioni online di niente. Però al tempo stesso dovrebbe essere dedicato principalmente ai processori che abbiano due CCD. Cosa vuol dire? Se prendete questa immagine del 7950 X3D senza il coperchio, effettivamente potete notare che ci sono tre zone. Una è la zona di input-output, mentre le altre due prendono il nome di CCD e sono semplicemente le zone che includono i core e poi collaborando con l'input-output appunto comunicano l'interno del nostro PC. Comunque ad ogni modo queste due zone includono otto core ognuna nel caso del 7950 X3D. Quello che fa questa tecnologia è andare a disabilitarne uno. Perché? Semplicemente perché disabilitandone uno si fa sì che il processore sia costretto a lavorare con un singolo CCD. Ovviamente capirete una cosa, se due zone devono gestire lo stesso calcolo insieme passando per l'input-output le latenze saranno maggiori, incrementeranno. Invece se soltanto un CCD deve gestire appunto questa tipologia di calcoli le latenze si riducono e quindi anche andando poi a togliere tutte le parti che non servono per il gaming dovrebbero incrementare le prestazioni. Questo è anche il motivo per cui in alcuni casi il 7800 X3D performa meglio del 7950 X3D nonostante questo dovrebbe essere il miglior processore in condizioni naturali. Semplicemente ha un CCD e fa tutte le azioni su uno mentre l'altro ne ha due e aumenta la latenza per questo. Ok ma passiamo un attimino a parlare di questi benedetti test. 7950 X3D, 7800 X3D. Attivato o disattivato? Vediamo le differenze. Ho selezionato un po' di giochi misti in maniera che diciamo l'approccio del processore possa essere più o meno importante all'interno del titolo stesso. Il primo titolo che ho selezionato è Derift Breaker. Praticamente questo qui non è un gioco ma un programma di produttività. Ma perché? Perché semplicemente ci sono tantissime unità in gioco contemporaneamente ed è uno sforzo incredibile per il processore e questo va a rendere utili avere più core e avere più thread. E in questo caso valutiamo se il nostro processore è in grado appunto di darci una prestazione migliore o se la versione originale appunto ci potesse aiutare. Come potete vedere qui non c'è un beneficio ma in realtà calano leggermente le prestazioni. Come potete vedere partevamo da 231 e 230 fps con un 7950 X3D che aveva pure un 1% low leggermente più alto beneficio dei core e dei thread extra ed effettivamente perdono prestazioni entrambi. Non saprei dirvi esattamente perché il 7800 X3D abbia perso prestazioni ma probabilmente è qualcosa relativo alla seconda parte che viene disabilitata e rimodulata con questa modalità perché non è semplicemente disattivare e attivare hyper trading e un CCD. Probabilmente questo gioco beneficia dell'hyper trading perché appunto molto complesso, molte unità, molte cose da gestire e quindi anche toglierlo dal 7800 X3D ci porta delle prestazioni inferiori. Praticamente il 7950 X3D e il 7800 X3D in questo gioco sono uguali. Shadow of the Tomb Raider invece è un gioco che ci fa sperare molto molto meglio. Come potete vedere la prestazione iniziale era molto simile tra i due processori con solo un 7800 X3D che manteneva un 1% low più alto ma una volta implementata la tecnologia potete vedere come la Turbo Mod faccia schizzare in maniera velocissima il 7950 X3D che addirittura supera il 7800 X3D cosa che normalmente nei benchmark non succede andando a posizionarsi comunque quel 4-5% sopra ed è piuttosto interessante però c'è da dire che Shadow of the Tomb Raider l'ho messo apposta dentro perché è un gioco terribilmente sensibile agli sbalzi d'umore del processore nell'ambito degli X3D. Viene spesso attaccato come benchmark perché è un gioco che beneficia particolarmente della presenza della 3DV Cache e in 1080p con questa 4090 questi processori riescono a spingere tanto è un gioco un po' particolare l'ho voluto inserire apposta diciamo comunque che c'è un incremento prestazionale veramente notevole tra 353 e 395 fps l'unica cosa che diciamo mi lascia un po' perplesso è come effettivamente il 7800 X3D partisse da una base di 1% low più alta ma poi potete vedere che passa la seconda zona con soltanto 23 fps in più mentre il 7950 X3D in questo caso ne beneficia molto di più da 236 a 306 sono 70 fps è veramente tanto. Gears 5 è un gioco un po' particolare e qui effettivamente notiamo che probabilmente questa modalità non è semplicemente disattivare SMT e un CCD ma ha anche altre parti al suo interno in quanto potete vedere che il 7800 X3D partiva svantaggiato ma recupera terreno in maniera sensibile andando praticamente ad allinearsi a 7950 X3D con appunto una prestazione molto molto simile. il beneficio c'è anche in termini del 1% low onestamente in questo caso non è il processore grosso a beneficiarne ma soltanto il 7800 X3D. Cyberpunk 2077 è un gioco molto particolare perché la cosa che ho sempre notato è che più basso il core count e più potente il processore migliora la prestazione in questo gioco. A questo titolo non frega niente che tu abbia 20 core ne vuole 8. 8 gli bastano basta che siano 8 core potenti. Ed effettivamente potete vedere come nell'attivare la turbo mode in questo caso abbiamo un aumento prestazionale di circa 12 fps comunque niente di eccezionale però sul 7950 X3D mentre il 7800 X3D aveva già una prestazione privilegiata perché comunque è uno dei migliori processori per questo gioco ormai i test li abbiamo fatti ma la cosa che mi lascia un po' perplesso è che entrambi i processori perdano prestazioni nel 1% low cosa che vuol dire che probabilmente c'è qualche piccolo problema di comunicazione interna attivando la turbo mode in particolare il 7800 X3D ha un danno più ingente il 1% low ricordatevi che ci indica la qualità dell'esperienza e non solo la quantità degli fps cioè più è basso il valore del 1% low rispetto alla media degli fps peggiore sarà l'esperienza più stutter e più freeze e più cose brutte che ci impediscono di godere del nostro gioco. Infine ragazzi siccome è appena arrivato ho pensato di includere anche Black Ops 6 visto che è particolarmente interessante allora è un gioco molto particolare devo dire secondo me Ryzen ha qualche problema perché ho notato degli utilizzi di processori abbastanza alti in generale però effettivamente la cosa più particolare sono le prestazioni potete vedere come il 7950 X3D ignori completamente la presenza o meno della turbo mode se non per un calo del 1% low nuovamente che effettivamente infici le prestazioni mentre sul 7800 X3D assolutamente ragazzi sconsigliato utilizzare la tecnologia abbiamo perso 53 fps 53 fps e anche il 1% low è un massacro ora metto un attimino le mani avanti c'è a dire una cosa ragazzi questa prestazione del 7800 X3D per me è un pizzico anomala nel senso che di solito mi fa un po' meno il 7800 X3D però in questo batch di benchmark per qualche motivo forse il fatto che abbia fatto avanti e indietro dal BIOS più volte o magari non lo so questa tecnologia lascia dei residui strani su alcune impostazioni del BIOS diciamo che solitamente 7800 X3D in queste condizioni di test non mi fa 308 fps solitamente si avvicinava più verso i 290 295 quindi sta un pochettino sovraperformando ad ogni modo la turbo mod in questo caso sta influenzando negativamente l'esperienza di tanto ma ci sono ancora due aspetti da vedere prima di tutto abbiamo la media degli fps abbiamo il 7950 X3D che in generale su questi 5 giochi che ho analizzato può vantare un incremento prestazionale di 13 fps passando da 265 a 278 quindi diciamo che il vero processore target ha ricevuto qualche beneficio mentre per quanto riguarda il 7800 X3D la prestazione effettiva per quanto su qualche titolo magari ci siano stati dei benefici insomma non è granché potete vedere che perdiamo un fps medio e 5 in 1% low poi ovviamente ragazzi se mettessi magari 20 giochi ci sarebbe un beneficio minimo ma diciamo che è un po' situazionale e non avrebbe neanche senso fare un benchmark così esteso per una piccola modalità nuova del BIOS un ultimo aspetto da analizzare però ragazzi è quello dei consumi il 7950 X3D in questo caso sta venendo letteralmente mutilato di un CCD che non andrà a non funzionare più e quindi non sarà più alimentato elettronicamente questo dovrebbe portare dei benefici in termini di consumi ecco la mia analisi media estratta con hardware info 64 qui potete vedere che effettivamente in praticamente tutti i giochi il 7950 X3D finisce a consumare di meno se consideriamo che comunque la media dell'FPS ci dà un riscontro di beneficio effettivo per quanto basso i consumi ridotti in questo caso sono comunque interessanti perché per quanto a livello realistico non è che siano delle robe che vi cambieranno la vita questo non fa che migliorare il rapporto di efficienza di Ryzen che in questo momento osteggia l'unica caratteristica realmente positiva degli Intel Core 200 S perché effettivamente se ci pensate il loro cavallo di battaglia è quello ma AMD qui continua a migliorare la sua efficienza in maniera sensibile il 285K secondo me in questo momento ha perso ancora di più interesse sotto questo punto di vista il caso penso più eccezionale è sicuramente Shadow of the Tomb Raider così come Cyberpunk potete vedere che sono 10 Watt in meno o 11 Watt in meno per quanto riguarda Shadow of the Tomb Raider molto molto interessante comunque mentre per il 7800X3D ve lo dico in maniera empirica come ci riporta Gigabyte non ci sono grossi benefici 1-2 Watt ma proprio cose veramente insignificanti però 10 su 84 è più del 10% raga è un bel incremento di efficienza ovviamente ragazzi c'è da dire una cosa questa modalità non è dinamica nel senso che non capisce quando siete o meno in gioco per attivare o disattivare Simultaneous Multithreading e i CCD quindi vuol dire che il vostro 7950X3D una volta attivata la modalità rimarrà mutilato fino a che effettivamente non disattiverete la Turbo Mode non danneggia in nessun modo il processore però effettivamente ricordatevi che se avete un 7950X3D probabilmente siete delle persone che lavorano e giocano oppure avete solo fatto un acquisto sconsiderato ad ogni modo la cosa che vi dico è che se poi dovete lavorare o in generale questi CPU le dovete lavorare ricordatevi di disattivare la Turbo Mode perché danneggia le prestazioni finali del processore è abbastanza scontato che togliere Core e Thread da programmi che appunto ne facciano largo utilizzo specialmente nel caso di simulazioni di render encoding e cose così che appunto sfruttano l'interesse del processore si perdano prestazioni nel non avere tutto questo pacchetto praticamente state passando un 7950X3D a un 7700 scarso quindi ricordatevi di toglierlo se dovete lavorare e di attivarlo se dovete giocare spero fosse scontato ma lo metto come nota per essere il più completo possibile ad ogni modo ragazzi io vi ricordo che like commenti iscrizioni aiutano questo canale a poter portare anche appunto questi microbenchmark che al momento in cui sto registrando questo video non hanno non c'è nessuno al mondo che li abbia fatti quindi volevo volevo fare un contenuto interessante spero appunto che per voi sia stato utile noi ci vediamo al prossimo video voi state su More Than Tech Salusa